Dopo il successo del giocattolo sospeso arriva il libro sospeso, una nuova proposta del Comune di Napoli con cui i cittadini potranno regalare un libro a un lettore sconosciuto con minore possibilità economica. Chiamiamo alle armi tutti gli editori, i negozi di libri, le cartolibrerie per aiutarci in questa nuova sfida, fare in modo che in tutti i negozi possano essere a disposizione dei giovani e di tutti i nostri concittadini dei libri da poter portare a casa e poter leggere in tutta comodità. Sul sito il Comune di Napoli è possibile trovare il link attraverso cui tutte le librerie, le cartolibrerie e gli editori possono aderire alla nostra iniziativa, quindi c'è tempo e ci auguriamo che siano tantissimi coloro che aderiranno in tutta la città e poi naturalmente daremo le notizie sempre sul sito e su tutti i nostri social di coloro che aderiranno presso i quali appunto potrà essere possibile andare a scegliere il proprio libro. L'iniziativa del libro sospeso è stata avviata con una delibera di giunta comunale che ha raccolto diversi contributi e proposte. Un'iniziativa che congiunge tre vettori, il primo quello ovviamente di ridivulgare ed aumentare i mezzi a disposizione della divulgazione culturale, il secondo è quello di voler sostenere le persone, le famiglie, i ragazzi che non hanno possibilità di acquistare i libri e la terza contemporaneamente è quella di sostenere la categoria libraria. Sicuramente vuole essere un aiuto a quelle che possono essere famiglie in difficoltà e che non hanno quindi magari la possibilità di acquistare tanti libri e vogliamo anche fare in modo che soprattutto i giovani possano aumentare, riacquistare il piacere della lettura. Questo progetto si sposa insieme a un lavoro che stiamo facendo in tutti i centri giovanili della città in cui stiamo allestendo anche fisicamente degli spazi che possano essere dedicati alla lettura. Quindi ci saranno delle comode poltrone, dei tavolini in cui magari leggere insieme a degli amici e poter discutere del libro appena letto. Le librerie in cui sarà possibile scegliere i libri messi a disposizione dalle persone che naturalmente avranno donato e quindi li ringraziamo già da ora per il loro gesto si distingueranno attraverso una locandina che sarà posta in tutte le vetrine. Grazie. Grazie.